Alla prima pioggia, Augusto de Tantis, gli impianti dell'elettrodotto di Terna sono andati sott'acqua. Voi avete testimoniato con delle foto quello che è accaduto. Perché è accaduto tutto questo? Sono immagini sconvolgenti. I cantieri di un'opera pubblica di interesse nazionale, che noi riteniamo inutile, sono andati sott'acqua, sommersi da una piena, peraltro piccola, del fiume Pescara. Certo, se si realizzano sostegni, piloni a 10 metri dal fiume, in realtà in mezzo al fiume, quando questo si riprende le aree attorno all'alveo di Magra, diciamo così, era prevedibile, voglio dire. Gli enti lo sapevano, peraltro. Noi abbiamo denunciato da mesi che era un errore autorizzare un'opera in area a rischio idrogeologico. Qui ci si riempie la bocca ogni volta che ci sono i lutti a Genova, in Lombardia, del rischio idrogeologico. Poi però, alla prova dei fatti, si autorizza come se nulla fosse decine di sostegni in area a rischio sia alluvione, sia a rischio frana. Sul fiume Pescara, sul fiume Sinello, sul fiume Sangro. A rischio frana, per esempio, a Guardia Grele abbiamo un sostegno che dovrà essere realizzato in una frana attiva. Attiva, cioè sta franando ora e ci fanno un sostegno alto 60 metri. E' incredibile. Noi chiediamo la revoca immediata di tutte queste autorizzazioni. Avete lanciato l'allarme, un allarme che però dura da tempo. Sì, come al solito siamo inascoltati, però gli enti poi arrivano sempre dopo. Quando ci sono i problemi arrivano dopo. Noi ci chiediamo un mero esempio. In caso si realizza quest'opera. Quest'opera deve dare energia elettrica agli ospedali, alla prefettura. Arriva un blackout. Bisogna intervenire sulla linea. Chi ci va di notte sotto i temporali in una situazione con tre metri d'acqua del fiume in piena a lavorare su quei sostegni? Ce lo chiediamo. Non sappiamo. Eppure queste opere dovrebbero funzionare proprio in situazioni di emergenza. Questo la dice lunga sulla capacità dei nostri enti di pianificare bene il nostro presente e il nostro futuro. Grazie.